Abbiamo sempre al comando 3 atleti, Maglia Azzurra per 3 sport, cosa d'Argelo me la fa? Applauso eh a questi atleti. Numero 116, Jacopo Moscavini, seguito dal numero 152 e 164. 152, abbiamo Gornati Alessandro, atletica Piemosti e un ragazzo di colore Giabatto che spiorge. Quarto, numero 102, quinta posizione, bravi ragazzi, numero 103, sesta posizione. Un bel gruppetto, numero 159, bravo in filippo, 27, Jacopo Viola, numero 30. Gordone Francesco, 169, Burroni, sempre presente la nostra colpa. Giovanni Infante numero 120, Bordino numero 109, un bel applauso. Numero 54, Massimiliano, Italiani, Albania, complimenti. Cento quindici, Cavallaro, Zola Mattis, numero 5, Kelly Luigi, malato e mai. E numero 166, Costasso Fiorezzo, contenenti. G4-3, gruppo da partire domani, Manuel Arremoni. Vai, Gara, vai! 160, questa è la 130, la 160 è Galloni, che ha 3,30. Prima donna in comando. Ecco la terza donna, Maria Merga, numero 29. Quarta donna, la numero 8, Bianchi Scetti, Antonella. Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo! Praticamente tutto il reale vittorio l'elento è riempito da Ipodisti. Numero 132, un grandissimo amico, Pallini, Alberto. Bravo, Palli! 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 Guardate che bello spettacolo, tutto il finale è riempito da questi Ipodisti, da questi Ipodisti. Un bell'applauso, bravi ragazzi! Bravissimi! 69, Laura Ducchi, sempre Balcani Romani. Siamo a temi che tra qualche secondo dovrebbero arrivare di nuovo il primo concorrente. Guardiamo se è un gruppetto ancora di tre persone o sarà stata fatta la selezione. L'è un'attenzione! Bravo, Palli! Siamo a temi che tra qualche secondo domanda con laarchiazione! Guarda! Vado a tre! Vado a tre! Vado a tre! Guarda! 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 157, un paesano, un pallone, Andrea, bravo Andrea Susanna Vitti, una sciola dog greco, Mario Pugnerini, brava Susanna, 156 Paesana, mi dicono che sta arrivando di nuovo il primo concorrente, facciamo chi si tratta Jacopo Toscavini al comando, a giù